signori beddemi e benvenuti in un nuovo episodio di cyberpunk nell'episodio precedente abbiamo trovato finalmente evelyn l'abbiamo portata a casa volevamo toccarli il culo l'abbiamo toccato sì per sbaglio comunque con judy invece si formano si sta formando comunque un rapporto migliore e mi trovo in questo momento qua perché stavo dando un'occhiata a quest'auto che non possiamo comprare perché costa 31k soldi che non abbiamo guardate che bella ragà l'ambientazione quest'auto messa qui nel nulla praticamente allora a livello di armi non mi ricordo come eravamo messi vediamo se mi ero sistemato tutto sì mi ero sistemato tutto quindi sono tutto ordinato pulito vi avevo detto nell'episodio precedente che avrei comprato l'appartamento non l'ho fatto nell'episodio precedente ma l'ho fatto fuori registrazione adesso infatti ci vado prendo la macchina prendo e andiamo all'appartamento vi faccio vedere l'appartamento e e e e e e faccio vedere l'appartamento e poi andiamo a fare la missione principale che attualmente abbiamo che è soltanto questa dobbiamo finalmente incontrare takemura per vedere se ha estratto qualche informazione interessante da elman che dovrebbe essere forse l'unica possibilità per aiutarci perché ripeto e dico noi stiamo morendo per via del relic che abbiamo impiantato allora io direi di andare a casa vi faccio vedere qual è casa mia alla fine ho preso l'appartamento quello da 5k che è questo qui non è chissà cosa però non è male posti di blocco qua quel coglione a un'altra roba volevo provare ragazzi io volevo provare a rigiocare il gioco mk so che uno dice anche dopo 13 episodi giochi mk però raga quello che è quello che la mira mk il movimento tutta un'altra roba mi viene meglio così guardate questa pompa che ho trovato è onestamente così il gioco è molto più frenetico il problema è che sono un po complicati i comandi se ci può fare l'abitudine però per quanto riguarda proprio il gameplay in sé a me viene molto più comodo così quindi proprio a livello di spara fare dobbiamo pochino abituarci con alcune cose ecco per esempio ho il tasto del mouse uso sta cosa la granata non so come si usa il cambio arma è così se voglio ah ok con la rotellina scansiono se voglio estrarre l'arma a con G apro il diario quindi pure l'inventario così ah ok vichiamo la macchina ma già c'è vabbè ci abituiamo ci abituiamo proviamo a giocare mk la guida è meglio da pad hai pro i contro vabbè ma la guida ti ci abito alla fine non è una parte fondamentale del gioco allora quindi ricapitolando andiamo verso casa che è esattamente qui allora capitanze non gira vabbè siamo arrivati e questa qui è casa nostra non è un granché ve lo dico però non dobbiamo fare la rottura di coglioni di dover fare l'ascensore ve l'ho detto nell'episodio precedente il motivo per cui volevo cambiare casa invece è così vedi siamo già qui e ciao questo è il nostro appartamento abbiamo il letto abbiamo un paio di roba abbiamo un paio di robe quali qua ci abbiamo le nostre scorte qua ci abbiamo il guardaroba una macchinetta pure per giocare alle slot il nostro postazione da gaming per streamare su twitch abbiamo tutto qua possiamo riposare non è male non è male insomma detto questo io riprenderei per adesso non lo so magari provo MK fin quando mi trovo male allora come si apre la mappa ecco mappa allora noi dobbiamo andare a parlare con Takemura dio ma cos'ho? ah ma nei veicoli posso aprire lo stesso inventario che ho a casa eh spacchiosissima sta roba magari devo cambiare tipo visual per chiudere meglio che la moto proprio in terza in prima persona è fighissimo allora vorrei cercare di fare molto sulla storia così magari lo completiamo Cyberpunk anche perché vorrei iniziare Shadow of the Tomb Raider l'ultimo Tomb Raider uscito in teoria non è nuovo ovviamente però è l'ultimo uscito e mi piacerebbe fare dato che la serie comunque di Tomb Raider quando abbiamo fatto sul canale Rise of the Tomb Raider che ti consiglio di andare a vedere vabbè non ero diciamo ora sono un po' più sciolto diciamo a registrare però quelli lì erano l'inizio fuori la mia prima serie no non la prima ma quasi si potrebbe definire la quasi registrata così quasi la prima diciamo insomma ero ancora un po' così il microfono era una merda un po' di insomma però per chi non l'avesse seguito magari potrebbe anche far comodo comunque io riprendo il pad ragazzi perché mi sono ricordato quanto era scomodo la risposta i dialoghi questa roba qua quindi riprendo il pad aspetta è un piacere vederti V direi che qui siamo belli isolati è appropriato per un incontro segreto che cavolo ti è successo sembri a pezzi guardami sono un uomo derubato dei suoi impianti dei suoi soldi e della sua dignità ma non è così male in fondo nessuno mi nota per strada dov'è il torino? il tuo amico è qui Oda dovrebbe arrivare da un momento all'altro ti spiace dirmi qualcosa di più su di lui? è la guardia del colpo di Hanako Sama Hanako della Rasaka nella porta aerea è ancorata nella baia la figlia di Saburo la figlia di Saburo e se ti crede la prossima volta incontriamo lei Dio e che cosa impedirà a quel suo galoppino di tradirci? non lo farà è un uomo d'onore certo la Rasaka è piena di gente del genere non confondere l'onore con la meschina morale con la quale vivi in auto eh buon segno in genere arriva mimetizzato oh quindi questo qui è la guardia del corpo della figlia di Saburo che dovrebbe essere la sorella di Yorinobu quello che ha ucciso Saburo c'è un casino c'è qui la guardia del corpo ma è una ragazza o un ragazzo non l'ho capito una ragazza o un ragazzo non si capisce va becina non si capisce il cano un maschio ok quello che ho da dire non ti piacerà voglio una garanzia quello che ho da dire non ti piacerà voglio la garanzia di essere al sicuro lo sei garantito ti puoi fidarti di Oda ok allora al Compeki Plaza ero lì la notte che è successo sembrava la solita lite familiare finché Yorinobu è saltato addosso a Saburo e ha iniziato a strangolarlo non un'altra parola tu stai giocando con il fuoco ma è la verità Hanako Sama deve saperlo la mia unica preoccupazione è proteggerla in questa città dimenticata dagli dèi è in pericolo ora no ma durante la parata in onore di Arasaka Sama sicuramente io ti porto un testimone dell'omicidio e tu ti preoccupi di una stupida parata idiota esatto a differenza ma non puoi ignorare la verità esatto a differenza tua io non ho mai smesso di onorare il giuramento ti pentirai di queste parole l'unica cosa di cui mi pento è di essere venuto a questo incontro c'è una taglia sulla tua testa devi ringraziare se non te la taglio e non la porto dritta a Yorinobu Sama che cosa faresti ora se fossi al mio posto io non faccio favori porterei la tua testa ma vuoi aiutarci o no parliamo di un uomo che ha ucciso suo padre per prendere il controllo della Arasaka ha intenzione di fare qualcosa o no non lo farò non lo farò mi permetto di lasciare questo posto questa città incorumi se rivedo uno di voi due non sarò così magnanimo fa molta attenzione amico mio siamo tutti lontani da casa era ora cazzo un invasato della Arasaka è già più che sufficiente bell'amico ne hai altri così purtroppo solo lì ma vaffanculo non poteva funzionare eppure ce ne andiamo avendo ottenuto una piccola vittoria ma qual è sta vittoria scusa cosa te lo fa pensare quello che ha detto Oda torneranno a Tokyo dopo la parata non assisti alla parata forse è la nostra occasione se riuscissimo ad avvicinarci ad Hanako-sama prima dobbiamo fare una ricognizione adeguata minchia la vedo male ora tocca a te sentire gli amici conosci un fixer che può darci una mano? Wakako conosco una fixer Wakako Okada gestisce una sala pacinco su Jig Jig Street andremo a trovare questa donna non lo so vieni con me ma andiamo certo perché no cioè non lo so perché non riescono capisco il codice d'onore bordelli così però cioè raga minchia è uccido non sta puro così davanti e nessuno zigg street che nome un nome da Night City stai attento mi prendi in giro troppo spesso sai cosa sta succedendo alla rasaka solo quello che si può ipotizzare guardando la tv Yorinobu e le sue marionette sorridono alle telecamere e dicono che è tutto sotto controllo ma più sorridono più grandi sono le bugie stai bene Goro sì come mai questa preoccupazione ormai siamo a picci mi stai simpatico sto solo chiedendo devo per forza avere un secondo fine quando parlo con te scusa mi sono espresso male io non sono abituato a domande del genere quelli come me o stanno bene o finiscono in una tomba beh guarda che belli dialoghi raga è vero perché non è che sempre in missione sempre operazione sempre a rischio di morire comunque saltiamo la corsa io direi di andare da Wakako vediamo che cazzo succede ed eccoci qui nella strada che abbiamo conosciuto un paio di episodi fa immaginate raga la scena lui Takemura che è comunque una persona rispettata della rasaka gente corporativa no che si ritrova in un ambiente del genere che per lui è ambiente per pezzente perché non mi ricordo se in questo momento ho la censura o no Wakako buongiorgio vi felice di rivederti e il tuo affascinante amico è stiamo lavorando insieme tutto qui Takemura guru okada sono un vero gentiluomo peccato solo che tutti i soldatini della rasaka gli diano la caccia e tu vi l'hai portato qui da me dammi un buon motivo per cui non dovrei avvertire subito le autorità semplice sei terribilmente curiosa se avessi voluto le avresti già chiamate semplicemente sei curiosa di scoprire di che si tratta sentiamo allora ricordati che ho ancora il telefono a portata di mano ci servono informazioni sulla parata che passerà per Japantown quindi si tratta della rasaka di nuovo quello che non capisco è perché venire da me Deshawn non ha risposto al telefono Goro ricordami perché Dex non è disponibile Goro ricordami perché il grasso culo traditore di Dex è attualmente indisposto perché è deceduto fatto a pezzi e gettato in una discarica dagli sgarri della rasaka un vero peccato si tratta forse di una minaccia no nessuna minaccia mi hai chiesto perché non potevo contattare Dex e io ti ho risposto sono soltanto fatti bene perché altrimenti l'avresti raggiunto presto Okada-san le nostre intenzioni sono onorevoli ci servono sono solo informazioni è una questione di vita o di morte è tutto su questi shard quanto ci costerà le mie tasche sono vuote lo vedo è un regalo gratis Okada-san ciò che è gratis risulta spesso molto costoso li volete ah prendi prendi prima che cambi idea vediamo che informazione abbiamo l'intero distretto l'intero distretto sarà bloccato per la parata i carri d'asci saranno l'attrazione principale voleranno da questa parte sopra le strade lungo il percorso terrazzi passerelle e punti rialzati offrono una buona visuale Anako Arasaka l'ospite d'onore terrà il suo discorso dal carro più grande e lo farà esattamente qui non so nulla della sicurezza ma considerati i recenti eventi mi aspetto che sia stretta durante l'ultima parata l'Arasaka aveva infiltrato agenti tra la folla per non parlare dell'esercito di tiratori e di droni come se non bastasse avevano un netrunner almeno uno usavano le telecamere cittadine per controllare tutto il punto d'accesso principale è qui un vecchio centro di controllo automatizzato credo sia la cosa più utile alla fine i carri lasceranno Japan Town e noi resteremo con fiumi di spazzatura fino al ginocchio e nessuno a ripulirla è tutto quello che ho calcola che quella cosa che lei apprezza come una minaccia non avrei voluto farlo onestamente non pensavo però dai se cazzo bene quindi sappiamo bene o male qualche informazione in più su queste cose passeranno dei carri perfetto svolge altri incarichi nell'attesa di una chiamata di Mr. Red bene possiamo approfittare per farci una missione secondaria che di solito con voi non le faccio è arrivato il momento di fare qualche secondaria vediamo lavoretti di minore in semplici incontri casuali vediamo vediamo qua che sembra abbastanza vicino come zone sono tutte secondarie ah vi ricordate raga ok allora sono V no no è la prima volta chi l'avrebbe mai detto si vede che non sei di queste parti dalla tua nostalgia di casa e sai qual è la cura migliore per la nostalgia una bibita bella rinfrescante e leggermente frizzante ok mi hai convinto venduta venduta qui non si vende niente perché sai cosa ti offro una lattina di Nicola gratis grazie oddio prenda bevi esatto ehi è fico che ti ricordi anche per una semplice MSSV fico quindi ti serviva qualcosa ah si beh ti chiedo scusa se approfitto di te in una fase così primordiale della nostra amicizia ma posso chiederti un favore che è successo vedi quel container lì di fronte mi blocca completamente la visuale della strada privando una MSSV del suo passatempo preferito ti spiacerebbe spostarlo un po' ti ricompenserà con la mia eterna gratitudine merda sei forte attenzione bevi qualcosa per rinfrescarti offro io ok ci becchiamo dopo ci becchiamo dopo brandon beccarci perché come gli uccelli vai a fare solo un modo di dire per salutarsi ho capito cioè a dire il vero no perché beccarsi non ha niente a che vedere con i saluti ma non importa gli umani dicono tante cose bizzarre ci becchiamo dopo vi che frase singolare vabbè è una missione stupidissima raga però come vedete motivo per cui non le faccio vedere molto vabbè questa era proprio stupida ce ne sono di più interessanti questa è proprio penso di aver preso la più incredibile comunque dobbiamo attendere la chiamata di Takemura l'unico modo che abbiamo per attendere bene è che ci sediamo qua magari ci mettiamo qui fermi e attendiamo del tempo manda avanti il tempo oh ecco la chiamata perfetto ok allora con chi devo parlare e come vai alla cappella sulla slona e cerca l'altare qualcuno ti toccherà e ti farà un cenno qualcuno di inquietante capito grazie qualcuno di inquietante tra l'altro guarda queste gang criminali va bene abbiamo una destinazione dobbiamo incontrare questa gente nel frattempo ancora aspettiamo la chiamata di Takemura quindi dal momento che non abbiamo nulla da fare facciamo quest'altra missione madonna mi è inguidabile st'auto facciamo quest'altra missione secondaria che non è male un po' di strada da fare quindi io vi schippo vediamo lì oh mi chiama Takemura raga allora noi dobbiamo andare per adesso alla cappella che ripeto detta così suona malissimo però è lì che dobbiamo andare ci ha pure chiamato Takemura possiamo fare tante cose ma per adesso ormai abbiamo iniziato quest'altra roba è sempre una missione principale non è una secondaria non ci sta vediamo di conoscere un po' questi voodoo sono tipo dei una specie di setta comunque per quello che ho capito e per come ci ha detto anche Mr. Hand è abbastanza inquietante la persona che dovremmo incontrare quindi sono curioso di sapere dov'è dove cazzo mi sta facendo prendere ma guarda quanto è bello quello cammini raga su questi terreni dovremmo essere qui nei dintorni eccola qui la chiesa apriamo oddio ma chi se l'aspettava la chiesa così raga oddio cosa mi ha tradito i capelli vero ti teniamo d'occhio da quando sei arrivato a pacifica non volevate che mi perdessi sei il mio contatto qualcuno mi parlerà di questo lavoro sono solo un intermediario avrai più informazioni presto voglio parlare con Brigitte è qui no il centro commerciale all'angolo vai alla macelleria chiedi di Placid ti darà lui i dettagli ok andiamocene da qui perfetto quindi questa qui è tutta la zona di pacifica dove ci sono tipo sta seta credente guardate il bello sai qual è che in base alle zone che visitiamo cambiano proprio gli abitanti si vede che sono queste qui di un quartiere più che altro anziani i ragazzi di chiesa capisco un cazzo queste lingue e io non capisco la vostra come tronsolazione come mato cerco Placid Placid come voglio parlare con il campo poche parole l'uomo chissà ovle oddio questa mi squarta pensavo pensavo che vendere polli allevati fosse illegale sono sei anni che il pollame probabilmente è malato ora ad un tratto uff tutto pulito non è in vendita che cosa vuoi cazzo in chiesa mi hanno detto di parlare con te mi manda mister enzo dice che vi serve un mercenario oddio non qui seguimi oddio la posso prendere quanto cazzo ti danno ah io me la foto minchia raga la mannaia se taglia la testa così come alla gallina dove andiamo? non è funudio di qua non mi piace comunque non mi dà l'informazione oddio benvenuto a pacifica minchia pacifica conosci bene pacifica? nah non siete proprio amichevoli con quelli che vengono da fuori doveva essere una città se in cui i ricchi avrebbero bruciato i loro eddi un circolo chiuso i corporativi gli davano soldi loro li risputavano indietro tutti questi giocattoli vengono da soldi corporativi attenzione ora ci interessa solo il gym grandi imperial il più grosso e brutto tempio ha l'avidità di tutta pacifica mai finito fino a settimana scorsa era deserto vuoto e ora? ora è diventato una tana degli animals ok raga mi sono messo soltanto la mannaia ma che ambiente raga ogni stato non parlo proprio per lasciarvi così l'atmosfera che si respira se vuoi ce l'ho io ho un minuto per te comunque se non vuoi parliamo qui intanto rispettatissimi quando vedrò Brigitte fai il lavoro poi vediamo ma che prima potresti dirmi che cazzo intendi fare ah appunto hai accettato il lavoro fa quello che ti dico ah no dipende Cucubicchia sta parlando subito altrimenti hai altri volontari pronti? vi manca poco ci siamo quasi non sputtanare tutto merda tanto non serve beh almeno non ti riempirà di chiacchiere Evelyn Parker ti dice qualcosa ti dice qualcosa non è una di noi ma ha lavorato per voi ho l'impressione che non saremo grandi amici ma non c'è chimica sopravvivrò però perché non mandate i vostri al gym non funziona così e come funziona allora funziona bene il più delle volte però ragazzi vedete minchia questo hardware è merda dovresti cambiarlo oh quindi sei anche un bisturi c'entra qualcosa o è solo un modo per spaventarmi devi essere all'altezza devo sapere questo chip non ha identificativo cos'è cazzo è per questo chip che sono qui e che voglio vedere Brigitte non ha un'aria familiare perché dovrebbe come l'hai rotto un proiettile nel cranio non funziona ecco come aspetta aspetta una volta dentro che devo fare abbiamo della missione però guarda quanto è fatto bene il personaggio 30 35 0 7 3 secondi prima vogliamo scoprire da dove viene la camionet tecnologia piuttosto avanzata non mi sembra roba da bestiaire la sorvegliano giorno e notte qualunque cosa sia è importante ah lui è il Netrunner che ha vuoi fare una pausa? credo che abbiano bisogno di te se la caveranno concentrati qui non parliamo solo di Animals sono stati assoldati da qualcun altro da qualcuno con un furgone pieno di roba da Netrunner è qui che entro in gioco io? per scoprire chi inizia dalla camione resta nascosto controlla solo la situazione ora sei in reso Agwe la nostra sottorete perché? a che serve? attraverso Agwe vedrò quello che vedi tu sentirò quello che senti tu ti guiderò nel gym un'altra voce nella testa chissà che dice il bisturi quindi vuoi tenermi d'occhio? alla faccia della fiducia d'accordo c'è altro che dovrei sapere? cerca i nostri uomini vicino al centro commerciale ti diranno come entrare la mia paga di quanto stiamo parlando e come faccio a riscuotere? Enzo ha detto che non lo fai per i soldi hai un problema occupati del gym per noi e Brigitte lo risolverà peccato che ho scoperto ora che dovrò fare da bersaglio in territorio nemico e quindi il mio prezzo è salito vedremo niente promesse capito se io faccio questo tu mi metti in contatto con Brigitte giusto? sei il sottì in fondo al corridoio scendi i miei ti lasceranno passare allora loro sono proprio basta basta non facciamo altre domande minchia loro sono proprio dei cioè dei duri raga minchia proprio sono così super serie ok allora io non so se salutarci qui per questo episodio che bene o male beh che non lo so forse vabbè facciamo questa missione perché non lo so mi sembra un episodio abbastanza vuoto cercherò di abbreviarlo questo episodio molto perché non mi sembra il caso ci sono più più dialoghi che altro non l'abbiamo fatto granché a parte l'incontro abbiamo saputo qualche informazione però ci sta un po' di azione quindi io direi di andarmi a fare quest'altra missione quindi incontriamo gli uomini di Placid facciamo questa missione che lui ci ha chiesto e poi nell'episodio nel prossimo episodio andiamo a conoscere questa Brigitte probabilmente vediamo sempre come siamo messi con i tempi ed eccoci arrivate ma guarda raga è il devasto che cazzo è successo auto esplose quindi entriamo lì dal centro commerciale in silenzio io andrei di mannaia raga in teoria se aumento la forza dovrebbe cambiare pure il mio stato fisico tipo tipo come se il personaggio si si diventa bombiato porca troia che cos'è oddio sto per darti una no ah non è male ehi accoccia porca puttana raga questa era gigante mi metteva anzi cronatina molto più forte direi se no ho il riparo migliore della vita raga colpo alla testa tu muori questo c'aveva delle granate pelle ste moto che hanno loro potete entrare la telecamera nel corridoio evitala ma funziona avevi detto che il posto era abbandonato da anni ora non più che mi mettono avanti tutti i suoni pantaloni corazze boh faccio una strage raga e sti cazzi alla furtività però non lo so se poi fallisco è pieno di gente come cazzo posso fare perfetto vai avanti penso di star prendendo la strada più giusta questo lo possiamo far fuori ma comunque sono tutti palestrade gli animos ora perché ora capisco perché si chiamano così oddio ma dai guarda come mi hanno sgamato tutti gli altri raga non ha senso sta cosa già sanno dove sono anche se è bene o male lui ha soltanto urlato un po' oddio questi tolgono aspettavo questo momento sono tutti dei palestrati ragazzi sono strapompati questi guarda loro come ti wallbang così sta cosa veramente non ha senso queste sono cose che purtroppo su cyberpunk che fanno un difetto purtroppo ste robe qua ragazzi fanno un difetto troppo perché su cyberpunk è frequente sta cosa tanto vale che lo toglievano lo stealth perché ci sta quando ti stanno per sgamare ma penso che tutti i nemici si allertano dal momento in cui ti vedono oddio è lui guarda come ferisce sta oddio dove cazzo era quello aspetta aspetta io voglio ammazzare a quell'altro eccolo faggatissimo ma ecco ah elimina è pure una ragazza sta cosa ma fa culo meno male che è nata donna tanto mi prende pure a distanza non ha manco senso guarda raga perdonatemi ma servirebbe un'arma più decente magari al posto della pistola vediamo se avevamo ho appena possibile devo migliorarmi proprio velocità di ricarica sta roba qua oddio direi che ne ha avuto abbastanza ma vaffanculo quanti euro dollari aveva che non ho fatto caso già che ci siamo ti dispiace dirmi cosa cerchiamo la mappa del flusso dati di pacifica cercano la chi sarebbero loro la network cercano sempre di fotterci allora che cosa cerchiamo quanto è grave la situazione vabbè ok perciò cosa devo fare raggiungi la gente sarà facile trovarlo guarda la mappa lui è nel cinema torna indietro questa non è la tua guerra Matt cosa la sied che c'è siamo tagliati fuori il netrunner sa che sei qui trovalo vabbè come lo trovo non voglio dichiarare guerra alla network preferirei non dichiarare guerra alla network non lo farai lo farò io se sono un assassino lui il cuore dobbiamo strapparlo via trova la gente cercare di tagliarti fuori c'è una saracinesca dietro la camione la apro vai vai apri qua sono dobbiamo accedere ai suoi dati capito prima dovrai fa si ci taglia fuori questo la vedo male comunque calma cosa hai fatto beh ora possiamo parlare in privato ho interrotto la connessione con il resto di pacifica ci darà un po' di tempo aspetta avanti un secondo fa hai cercato di ammazzarmi e ora vorresti parlare ammazzarti no solo scoraggiarti ma forse ti ho sottovalutato ok basta con le cazzate parla chi sei Bryce Mosley agente speciale netwatch possiamo parlare ti aveva installato uno spettro vero vedeva e sentiva tutto seguivi i suoi ordini non so quanto ti paghino i voodoo boys ma noi siamo molto generosi non mi interessa voglio solo parlare con il capo dei voodoo non mi interessa non lo faccio per soldi devo parlare con mamma Brigitte la chef fan dei voodoo Brigitte e il suo cagnolino T-Nepton sono bloccati da diversi giorni da quando abbiamo oscurato la sottorete con degli ice e tu? beh tu sei stato mandato qui per liberarli sai perché non ti hanno detto niente perché sei un ragnon è così che chiamano gli estranei a soldati per lavori speciali stracci quando non gli servi più ti gettano via è il destino di tutti i ragnon preferisco fidarmi dei voodoo boys no perché non mi piacciono manca a me allora stai vele fanno stai vele fanno hai le spalle al muro non puoi schivare questo proiettile non vedo motivo per cui non dovremmo uscirne entrambi vivi oh vorresti il meglio per me ora la netwatch ci predica l'altruismo l'altra parte è sempre uno sbirro siamo soci migliori dei voodoo certo potresti liberare Brigitte ma sarà duro parlare con lei quando sarai morto hai qualche prova che i voodoo vogliano fregarmi vogliano l'hanno già fatto appena gli hai dato il tuo lento hanno installato uno spettro e un virus come se fosse stato lì sta cercando di fotterti è così evidente dice ti ho chiesto delle prove e poi l'avrei notato ah si allora dai un'occhiata lancia una diagnostica dei sistemi ok vediamo ragazzi è vero perchè mi sa che dice la verità sto giro se ci tradiscono l'oristo mi metto con lui dalla sua parte niente i voodoo e? niente fuori posto nessuna traccia di riprova e poi confronta i risultati con i primi ottenuti ma però sembra sicuro di quello che dice oh identica giusto perché non è una vera scansione è una copia ma non ha nessuna cioè che significa ultima possibilità prendi una di hai idea di quanti attacchi dietro il black wall abbiamo neutralizzato l'anno scorso vuoi che indovini quindi non lo sai non lo sa nessuno a night city all'infuori di noi e nessuno vuole saperlo la gente lo immagina come un grande muro di confine la soluzione che proteggerà per sempre l'umanità in realtà è più simile a un sacchetto della spazzatura messo a chiudere una finestra rotta e i voodoo boys non la smettono di fare il loro cazzo di buchi vediamo la sua offerta che cosa mi offri un compromesso ti rimuoverò quel virus dei voodoo boys e libererò brigitte e tinepton si risveglieranno come se non fosse successo nulla non preoccuparti tu dovrai solo lasciarci andare con i nostri dati minchiate credo proprio che mi atterrò al piano minchiate dai vaffanculo cioè troppo troppo bello per essere così semplice spero di non pentirmene ma penso di aver fatto la scelta giusta oddio non mi dire che aveva ragione dai bye I Voodoo hanno bleffato. Non appena gli hai dato accesso alla rete Netwatch, hanno fritto tutti gli agenti, te compreso. E quindi sono di nuovo morto. Il biochip mi ha salvato di nuovo? Il biochip è intervenuto di nuovo per salvarmi. La Seed non poteva aspettarselo. Forse, in tal caso prego, eh. No. I Voodoo avranno liberato Brigitte. Sembra che il loro piano fosse questo, e ha funzionato grazie a te. Dopo che i Voodoo ti hanno usato come un drone kamikaze. Chi accetterebbe di lavorare con noi, gli spaventosi Voodoo Boys? La Seed ti ha preso per spazzatura, per uno che nessuno sarebbe mai venuto a cercare. Mi sembra che la fai sempre facile a parole. Al momento hai un aspetto orribile, ma avrai giornate migliori. Grazie, eh. Credo sia giunto il momento di fare quattro chiacchiere con Placid. Torniamo al Bettis. Mamma mia. Bastardo. Spero gli piacciano le sorprese. Madonna mia, raga, ma che gioco. Io per questo episodio però vi saluto qua, raga. Nel prossimo episodio andiamo a vedere cosa succede. Madonna mia, che intrecce, che storia. Mamma mia, succede una strage nel prossimo episodio, raga, sicuramente. Alla prossima, vera mia.